Ok, io sono Mattia Vicentini e voglio provare a spiegare il concetto di permacultura giusto in pochi minuti. La permacultura è un approccio multidisciplinare che appunto fa uso di diverse discipline come biologia, astronomia e economia per raggiungere l'obiettivo di vivere in armonia con il pianeta senza distruggere il pianeta e senza distruggere gli altri esseri umani. È una scienza, è un approccio di soluzione, non importa se viviamo in Norvegia, Giappone, Cile o Sudafrica, il clima in cui viviamo, abbiamo davvero tante soluzioni e abbiamo accesso a un sacco di piante che non avevamo accesso prima d'ora. Cioè, i nostri giardini oggi sono 800 volte più diversi di mille anni fa. Un esempio potrebbe essere, se guardiamo bosco o la foresta, nessuno va ad innaffiare il bosco, nessuno va a potare il bosco, nessuno va a fertilizzare il bosco, eppure ha un aspetto fantastico, segue le stagioni, produce frutti, fiori e mantiene un sacco di cicli di vita, tra uccelli e roditori e quant'altro, insetti. Se invece poi noi ci giriamo verso i nostri fruttetti, i nostri fruttetti o i campi di grano, sono monoculture e la gente appunto ti dice se non ariamo le piante non crescono, se non fertilizziamo le piante non crescono, se non potiamo le piante non fruttifichano, eppure se osserviamo il bosco è il contrario, no? Quindi il nostro approccio chiaramente convenzionale è molto distruttivo, limitante, non ci porta da nessuna parte. Osservando il bosco possiamo prendere questi concetti e portarli nelle nostre fattorie. Si parla spesso di fattorie di permacoltura perché, cioè questo approccio può essere adottato anche riguardo a una comunità, alla nostra casa, a un villaggio, a un comune, cioè nel senso non è limitato all'agricoltura, però si parte dall'agricoltura perché è alla base dei nostri bisogni. La produzione di cibo, acqua pulita, aria pulita, cioè è alla base della nostra vita, quindi la permacoltura parte da lì, ma non è affatto solo agricoltura, è chiaro. Questa cosa si espande a finanza, si espande a, come dicevo prima, al comune, a geopolitiche, cioè non è affatto solo agricoltura. E un'altra cosa molto cruciale che succede nel bosco è che non vengono mai prodotti rifiuti. Nei nostri approcci, nella nostra vita convenzionale c'è pieno di rifiuti perché non sappiamo come riutilizzare le cose. In natura questo concetto non esiste, cioè il rifiuto di un elemento o di un animale, di una pianta, diventa la risorsa per un altro elemento, come se l'energia fosse sempre passata, senza mai dover essere scartata in un certo senso, non c'è un rifiuto in natura. Quindi noi tentiamo di prendere queste lezioni dalla natura e incastrarle nella nostra vita, come dicevo prima, appunto, per essere più in armonia con la natura, seguire i cicli naturali e non distruggerci a vicenda. Ho preparato un corso di circa 15 lezioni, che dura circa 5 ore e mezza, e il costo è di 60 euro, è un corso online che ti puoi guardare da casa quando vuoi. Ho messo qualche informazione in più qui nella descrizione sotto. e vado in profondo, diciamo, su appunto i concetti, perché la permacultura ha delle direttive, ma essendo un approccio che va applicato globalmente, su una scala globale, ci sono troppe differenze. Quindi, ciò che viene insegnato sono i concetti, in maniera tale che, come dicevo prima, se tu vivi in montagna, al mare, in deserto, nella giungla, puoi comunque personalizzare questi concetti ed applicarli alla tua specifica località, con le piante da cui hai eccesso, capito come? E non è affatto limitante, al contrario, è un approccio molto aperto, pieno di soluzioni.